Amici della community di TT Planet 21, abbiamo finalmente provato in esclusiva il nuovo puntino nato dalla collaborazione tra Metal TT e la TT Planet, si chiama RUTAL. Puntino lungo, l'abbiamo provato da 0,5 mm di colore nero sul telaio T-Barbalza Deppi 25 con una MXP Max rossa sul diritto. Gomma veramente eccezionale, come potrete poi vedere nel video, sia in chocublock dalla vicina distanza si ha un ottimo controllo e si riesce a fare benissimo sia la fase passiva sia la fase attiva di spinta al tavolo. Per quanto mi riguarda, avendo una buona manualità, l'ho preferito però dalla media e lunga distanza e cioppando si riesce veramente a dare tantissimo taglio, tantissimo effetto e si riesce anche a dare molto facilmente liscio. L'ho trovata leggermente più complessa da utilizzare vicino al tavolo, chi veramente ha un ottimo mano comunque da vicino al tavolo non saprà apprezzare l'utilizzo. Gomma veramente rivoluzionaria, il prezzo è di 30 euro, affrettatevi a comprarla che già siamo pieni di ordini. Alla prossima ragazzi! Eccolo! Non trovo alzio, non trovo alzio. Per quanto mi riguarda ho provato al tavolo, il puntino vicino al tavolo a modi puntino medio a scambio. L'effetto disturbante era altissimo e l'avversario a malapena riusciva a tenere lo scambio. Nonostante abbiamo giocato con pallino tibar su tavolo tibar e di solito la palla gira molto poco, quando David andava indietro a cioppare la palla arrivava con molto effetto ed era molto difficile doppiarla o solamente ributtarla in campo con un palleggio. Oh la la la, oh la la la, oh la la la. Oh no! Non lo triggio. Due, due. Due. No. 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 Oh!